Benvenuti, viaggiatori! Io sono Grizzly, questo è Diario di Viaggio on the road. In questa puntata un po' speciale voglio parlarvi di come raccogliere beni che sono destinati alla popolazione in occasione di una calamità. In ogni caso vi ricordo sempre che la più importante donazione che si può fare in occasione di un'emergenza di protezione civile è sempre la donazione economica, perché aiuta a sostenere i costi di gestione dell'emergenza. La donazione economica può essere fatta sempre in tantissimi modi. Ci può essere l'SMS solidale, si può fare un bonifico bancario alla Croce Rossa o alla protezione civile o agli enti preposti per il soccorso, e spesso molte redazioni televisive, molte redazioni di giornali, di giornali nazionali, di giornali molto grandi, organizzano delle specifiche raccolte di fondi. E di nuovo, come ho fatto già la volta scorsa, vi ricordo di diffidare, invece, di raccolte di fondi non ben identificate, soprattutto di diffidare dalle raccolte di fondi effettuate da presunti volontari per strada, perché non è questo il modo di raccogliere fondi in caso di un'emergenza. Ci sono dei canali ufficiali, non esistono le persone che girano per strada chiedendo soldi. Detto questo, comunque, come ripeto, ci sono tantissime persone che ritengono che possa essere utile fare una donazione più tangibile tangibile che il denaro, o comunque di associare alla donazione di denaro anche qualcosa di più tangibile, un bene, della roba da mangiare o delle coperte. E sicuramente è una cosa che può aiutare tantissimo. Però, e parlo per l'esperienza fatta sui campi terremotati, sui campi alluvionati, quindi su esperienza fatta in Abruzzo, l'esperienza fatta nella provincia di Messina, a Barcellona, Pozzo di Gotto durante l'alluvione, ed esperienza fatta in altre situazioni, vi dico anche che, per poter fare una donazione di beni, è importante avere in mente che cosa serve veramente, perché in un campo, se qualcosa manca non è che si fa a meno, se qualcosa manca la si acquista. Quindi se una donazione è in grado di coprire della roba che, mancando quella, bisognerebbe acquistare, può essere una cosa estremamente utile. Però è importante, appunto, sapere che cosa manca, piuttosto che mandare cose a caso, perché invece se arriva della roba che non serve, finisce che occupa spazio in magazzino, e se sono prodotti alimentari rischiano di marcire in magazzino, di andare a male, o comunque di coinvolgere i magazzinieri in un lavoro che, oltre a quello della gestione del campo, è quello di andare a contattare tutti gli altri campi per trovare dove mandare del materiale, perché non vada perduto, perché non vada a male. Ora, buona parte delle cose di cui vi parlerò riguardano soprattutto i beni alimentari e i prodotti che vanno in cucina, perché la mia esperienza di protezione civile principalmente viene da lì. Ma dato che una delle cose più utili in un campo di protezione civile sono proprio le donazioni alimentari, perché aiutano, come ripeto, a risparmiare sui costi della spesa che deve essere fatta, certamente possono essere un aiuto molto importante, ma una condizione perché queste donazioni devono essere fatte con una certa intelligenza, quindi non mandando per esempio omogenizzati in un campo dove non ci sono neonati, ma anche tenendo a mente determinate cose. Ora, innanzi tutto, in una tendopoli che può avere un certo numero di persone, che può essere un centinaio come può essere anche un migliaio, considerate che ad esempio sempre in Abruzzo 2009, la mia esperienza più grossa in una tendopoli, nel corso del primo mese c'erano quasi 850-900 persone nella tendopoli, tra popolazione e personale di protezione civile circa 750 persone della popolazione, circa 150 del personale di protezione civile, considerate che all'interno di una cucina di un campo di protezione civile sempre esistono le normative di igiene e sono molto importanti. La cucina di una tendopoli è sempre sottoposta a diversi controlli. In Abruzzo, per esempio, o anche a Saponara siamo stati sottoposti ai controlli da parte dei NAS e da parte della ASL, fondamentalmente due volte alla settimana. Ogni settimana, un giorno veniva l'ASL e un giorno venivano i NAS. E non è che venivano, salutavano «Buongiorno, tutto a posto, grazie» e facevano controlli molto approfonditi. Noi facevamo la raccolta degli oli esausti, la cucina veniva ripulita dopo ogni preparazione, letteralmente sulla cucina si poteva mangiare per terra, perché è normale che quando devi preparare da mangiare per mille persone non puoi avere mille persone che poi si pigliano un'infezione intestinale, perché non stai mantenendo l'igiene, che è la base. Per questo motivo ci sono alcune situazioni che io vi dirò che quando si fa la raccolta di beni devono essere fatte, che all'inizio uno non ci arriva. Uno dice «Ma io pensavo di poter fare una donazione che potesse essere utile, ma questo tipo di donazione è utile fatta in questo modo, questo tipo di donazione fatta in quest'altro modo, non è utile». Ora, ecco i miei appunti. Io considero i generi logistici come suddivisibili in cinque grandi categorie. La categoria numero 1 sono i generi economici, le donazioni in denaro, ne abbiamo già parlato. La categoria numero 2 sono i generi alimentari veri e propri, quindi il cibo e le bevande. Alla categoria numero 3 metto i generi di prima necessità, come pannolini, assorbenti igienici, dentifricio, e via discorrendo. Vedremo queste categorie con calma più avanti. Alla categoria numero 4 metto i generi di conforto, come abiti o coperte. E infine alla categoria numero 5 metto i generi di supporto, come giocattoli o libri. Andiamo a analizzare. Abbiamo detto già la categoria 1, le donazioni in denaro, che è molto importante. Vi ho detto come andare a fare una donazione in denaro con l'SMS solidale, con il bonifico. Passiamo quindi alle donazioni di generi alimentari, che è una delle cose che si fa più spesso in occasione di un'emergenza, e che può essere una delle cose veramente più utili, soprattutto nella cucina di un campo di protezione civile. Per fare una donazione alimentare bisogna avere un minimo di logica, per cui considerate questo. Questo video, più che essere rivolto ai singoli che vogliono fare una donazione di prodotti alimentari, in realtà si rivolge a quelle associazioni, a quei comitati parrocchiali, a quei gruppi di persone che vogliono raccogliere dei beni materiali, quindi del cibo, delle bevande, qualcosa da poter mandare materialmente su nel campo di protezione civile, in maniera tale che questa raccolta venga organizzata e poi mandata sul campo con una certa intelligenza. Considerate la cosa più stupida. Quando abbiamo un campo, non so, di 500 persone, ogni volta che si vuole fare un pranzo medio andranno via 50-55 kg di pasta, perché il cuoco considera ad infare, certo, 120 g di pasta per ogni persona, per 500 persone fanno una cinquantina di chili. Considerate 55 kg di pasta. 55 kg di pasta, se io ho 55 kg di pasta che è tutta dello stesso tipo, tutta con lo stesso tempo di cottura, la posso fare, ma se io ho 55 pacchi di pasta da un chilo, tutti e 55 diversi. Non è che mi posso mettere a fare 55 pentole per cuocere 55 tipi diversi di pasta. Ecco che quando arrivano le donazioni si cerca di mettere assieme tutta la pasta dello stesso tipo, ed ecco perché vi dico se vi mettete in gruppo, piuttosto che dire va bene, comprate della pasta, il gruppo può dire allora comprate, non lo so, delle mezze penne della barilla. Tutti quanti raccogliete mezze penne barilla, dice ma perché un solo tipo di pasta? Perché così se in un campo che deve utilizzare 50-55 kg di pasta ogni volta, arrivano 100 kg di pasta, il cuoco può dire va bene, oggi e domani ci abbiamo la pasta per poter cucinare o non c'è bisogno di andarla a comprare. Mentre se arriveranno 3 kg di mezze penne, 3 kg di penne, 3 kg di questo, 2 kg di quello, 1 kg di quell'altro, e li possiamo mettere in magazzino e vedere se riusciamo a raggiungere le quantità, altrimenti quelle che mancano dovranno comunque essere comprate. Parliamo di generi alimentari e cominciamo a parlare della colazione. La colazione è divisa in due parti. Una parte che viene data alla popolazione, e una parte che deve essere preparata dalla cucina. Che vuol dire? La parte che deve essere preparata dalla cucina riguarda il caffè, il latte e il tè. La parte che viene data alla popolazione saranno i biscotti, le fette biscottate, eccetera. Ora, quando si raccoglie della roba per la popolazione, ci sono, come ho già accennato, i problemi di igiene a cui bisogna sottostare. Per questo motivo, quando si raccolgono beni alimentari per la colazione, che devono andare alla popolazione, l'ideale è di non raccogliere, non so, marmellata in barattoli da 200 g, quanto piuttosto di raccogliere le cose nella cosiddetta modalità monouso. Le marmellatine nella piccola confezione, il miele in bustine, lo zucchero Invece che mandare pacchi di zucchero da un chilo, mandate pacchi di zucchero in bustine. Il dolcificante, se volete, può essere utile anche quello, un dolcificante del fruttoso, però sempre nelle bustine, perché può essere utilizzato in monouso se io apro un pacco di zucchero da un chilo, dopo non è che lo posso lasciare lì, non è che può essere utilizzato da altri, quindi per motivi di igiene bisogna che sia così. Lo stesso discorso, un barattolo di marmellata da 200 g, mi viene più comodo prendere il barattolo monouso, la monoporzione, quando ne è avanzata metà la butterò via, però almeno butto via 2 g di marmellata. Lo stesso discorso sui biscotti e sulle fette biscottate. Piuttosto che mandare pacchi molto grandi di biscotti in pacchi molto grandi di fette biscottate, vedete se riuscite a trovare le fette biscottate che sono in monoporzione, che sono due fette, quattro fette chiuse nel cellofan. Miele, marmellata, zucchero... Anche la crema spalmabile al cacao ci sono le modalità in monoporzione, che sono naturalmente molto comode. Considerate di raccogliere latte di tipo UHT nel tetrapack, non mandate latte in bottiglie, non mandate assolutamente latte fresco pastorizzato, non mandate uova né uova fresche, né uova pastorizzate, né prodotti a base di uova, tipo il bianco d'uovo nel cartone. Non li mandate. Per quanto concerne i prodotti freschi, la cucina li compra e li deve comprare freschi ogni giorno. Anche la frutta e la verdura devono essere comprati freschi sul posto, perché è più sicuro, non ci sono dubbi con il trasporto, la roba arriva con il camion frigorifero e viene messa nel frigorifero, quindi non ci sono rischi di abbattimenti di temperatura, eccetera. Quindi evitate di raccogliere prodotti freschi. Questo non solo per la colazione, ma in genere. Preferibilmente non mandate fiocchi d'avena per la colazione. Da una parte perché appunto c'è il problema dell'igiene, perché non possiamo dare confezioni di fiocchi d'avena alla popolazione. Poi la popolazione cosa fa? Se li mette in tenda? Che magari stanno lì con il caldo? Magari attirano le formiche? È sempre meglio evitare. Mandate caffè macinato nella miscela per la moca, per la caffettiera, perché nel campo generalmente si usano le grandi caffettiere, quelle da 10 e anche da 18 tazze, piuttosto che macchine espresso, perché sono molto più versatili. Io con due caffettiere riesco a fare quasi un litro e mezzo di caffè, mentre con la macchina espresso dovrei continuare a sbattere la testa. E in questo caso vi consiglio di mandare pacchi di caffè da 250 g, quello macinato sottovuoto. Mandate tè e camomilla nella scatola di cartone, quella in filtri monouso. Non mandate tè solubile o il tè che deve essere preparato con l'infusore, perché c'è poco tempo e generalmente non ci sono gli infusori, mentre è più comodo avere a disposizione il tè nelle bustine, perché la cucina prepara magari 10 litri di acqua bollente, ci mette un tot di filtri, poi butta via i filtri e rimane il tè, ed è più funzionale che dover raccogliere, dover avere degli infusori, eccetera. Pranzo e cena. Come dicevo, abbiamo grandi quantità da dover trattare, di tante cose, quindi considerate quello che ci sono nel campo magari diverse decine se non centinaia di persone, e quindi è utile al campo avere a disposizione grosse quantità dello stesso tipo di pasta o dello stesso tipo di pastina, eccetera. Pasta all'uovo, preferibilmente solo i due o tre tipi di una sola marca, come vi dicevo prima, raccogliete magari, non so, mezze penne, penne rigate e spaghetti, e raccogliete solo questo tipo di pasta, possibilmente restate su monomarca, raccogliete, non so, barilla, buitoni, voiello, quello che volete voi. Questo non è un video sponsorizzato, l'idea è semplicemente se mi arrivano 50 kg di spaghetti voiello, e io ho in campo 450 persone, so che gli posso dire al cuoco guarda, ci abbiamo 50 kg di spaghetti che possono essere fatti, e il cuoco mi dice ok, allora domani non ordino pasta e facciamo quella pasta. Quindi in questo modo si aiuta, mentre se mi arrivano 2 kg di spaghetti, 1 kg di mezze penne, li posso mettere lì, e quando finalmente abbiamo 10-15 kg gli diciamo al cuoco va bene, ordina altri 25 kg, così li facciamo tutti insieme. Se mi arrivano pacchi da 1 kg di Marche sconosciute, e resteranno probabilmente in magazzino, se mi capita a qualcuno che si sta allontanando dal campo perché ritorna a casa, gli posso dare 1-2 pacchi di pasta, ma più di quello è difficile fare. Polpa di pomodoro e o pomodori pelati. Non mandate il passato di pomodoro, perché il passato di pomodoro serve solo a fare la salsa, mentre per esempio i pelati o la polpa di pomodoro possono essere utilizzati anche per preparare determinati contorni, per preparare il ragù, per... non lo so, per il pesce, eccetera. Mandate questi prodotti nelle latte di metallo, non mandate di nuovo bottiglie di vetro perché sono pericolosissime, si possono rompere. È preferibile la latte di metallo perché, se possibile, magari quella con l'apertura rapida perché ha la sua comodità, ma evitate comunque di mandare prodotti nel vetro. Evitate di mandare sughi pronti. Mandate la polpa o i pomodori pelati, ci pensa il cuoco o il gruppo di cucina a fare il sugo quando è necessario, perché dalla base si può partire per fare qualunque genere di sugo. Se mandate che so del sugo alle olive, ma arrivano tre chili di sugo alle olive, e dobbiamo fare cinquanta chili di pasta, serve a poco, viene messo di lato. Mandate tonno in scatola, preferibilmente tonno al naturale anziché sotto olio, olio d'extravergine o olio di qualche genere, e carne in scatola in gelatina. In questo caso può essere utile piuttosto che mandare le scatolette piccoline se c'è la possibilità di mandare le cosiddette scatole industriali, quelle da mezzo chilo, quelle da un chilo, perché tanto vanno via in grandi quantità. Potete mandare legumi, come piselli o fagioli, sempre nella latta di metallo. Evitate di mandare scatolame non identificato. Ogni tanto ci arrivano tra le donazioni radice di palma, frutta allo sciroppo. Evitateli. Cercate di mandare prodotti di largo consumo, fagioli, piselli, non so, mais, tonno, carne in scatola, queste cose qui. Infine abbiamo la logistica di cucina. La logistica riguarda non necessariamente quello che si cucina, ma quello che si utilizza in cucina. Posate. Nel refertorio si utilizzano naturalmente le posate di plastica, però dato che c'è come, torno a ripetere, è sempre una questione di igiene che bisogna rispettare, quello che si dà alla popolazione è la bustina che contiene un tovagliolo, un cucchiaio, un coltello e una forchetta, sigillati singoli, la monoporzione, la monouso. Quindi se trovate questo tipo di kit, che sono una bustina sigillata che contiene le tre posate e il tovagliolo, potete mandarli tranquillamente. Evitate, invece, assolutamente di mandare pacchi di... posate di plastica, cinquanta forchette, cinquanta cucchiai, purtroppo non sono igienici, non possono essere utilizzati per la popolazione, resterebbero lì inutilmente. Piatti di plastica. Quelli, invece, possono essere mandati piatti fondi e piatti piani nella confezione che può essere da cinquanta piatti, come da un chilo, come da due chili, perché vengono aperti e utilizzati in tempo reale, viene aperto il pacco utilizzato durante la distribuzione dei pasti. Questo può andare bene. È utile utilizzare e mandare piatti che possono essere scaldati nel microonde, e quindi che possono esistere altre temperature, piuttosto che piatti che si rompono semplicemente a guardarli. Servono piatti fondi e piatti piani. Non mandate piattini per la frutta, piatti per la pizza. Questi non servono, questi. Se ci dovesse essere una necessità, la cucina li va a comprare, ma è raro che ci sia questa necessità. Bicchieri di plastica e bicchierini di plastica, di solo due misure. Il bicchierino da caffè e il bicchiere di plastica medio, da 20-25 centilitri. Non mandate centinaia di bicchieri di misure grandi, da 300, da 500, le mezze pinte, bicchieri da birra. Non servono, servono bicchieri normalissimi. Rotolo di carta assorbente. Potete mandare il cosiddetto rotolo industriale, quello da 500, da mille strappi, oppure anche i rotoli di carta, classicamente per uso della carta casa. Funzionano tantissimo e servono tantissimo. Questi servono soprattutto in cucina, soprattutto per pulire, perché si usano molti prodotti monouso per pulire la cucina. Per mandare la roba, è utile sentirsi con le associazioni di volontariato sul territorio per vedere come organizzarsi. Perché soprattutto se nel vostro territorio è partita la colonna mobile di protezione civile, come ripeto ogni settimana, dieci giorni, massimo quattordici giorni, si dà il cambio, perché non è che il personale arriva lì e resta lì fino alla fine dell'emergenza. Il campo resta lì, il personale ruota, perché naturalmente non è possibile lavorare quasi 24 ore al giorno senza esplodere. E quindi quando potete partire il gruppo che dà il cambio, praticamente parte il gruppo, arriva sul posto e riparte il gruppo che ha finito il turno. Il gruppo che arriva sul posto partirà con dei pulmini, con dei camion, con determinati mezzi, e su questi mezzi ci sarà dello spazio occupato dai bagagli del personale, ma ci potrebbe essere dello spazio disponibile per trasportare la roba, appunto. Quindi per trasportare dei generi di prima necessità, per trasportare i vestiti, per trasportare quello che eventualmente avete raccolto. Quindi mettersi in contatto con l'associazione di volontariato può essere anche un modo per fare questo discorso. In mancanza di questo mettetevi in contatto, non lo so, con la Protezione Civile o con la Croce Rossa per vedere se ci sono dei centri di raccolta della Protezione Civile che raccolgono il materiale e lo fanno arrivare nei campi. Quindi rivolgetevi alla Protezione Civile o alla Croce Rosso o alle associazioni di volontariato che ci sono sul territorio per fare questo tipo di donazioni. Quando impacchettate le donazioni, come vi ripeto una cosa che aiuta tantissimo nel magazzino è di non trovare le cose scatolate tipo Tetris, io mi trovo la varecchina assieme alle scatolette di tonno, assieme ai vestiti, tutto assieme perché così la scatola si riempiva di più, cercate di fare scatoloni separati. Uno scatolone con il pomodoro in scatola, uno scatolone con la pasta, uno scatolone con i vestiti, uno scatolone con i detersivi. Ci scrivete fuori lo scatolone con il kit di pulizia personale, con il kit per farsi la barba. Scrivetegli fuori di che cosa contiene lo scatolone, 10 litri di varecchina, 50 kit di dentifrici, spazzolini e filo interdentale, 40 kit per farsi la barba, assorbenti igienici. Scrivete fuori sullo scatolone, questo aiuta tantissimo nel magazzino, perché quando arriva la roba è già pronta dice «kit per lavarsi i denti». C'è una parte del magazzino dedicata a quello, si gira dalla popolazione, vi serve qualcosa per lavarvi i denti? Pronti! Vi serve qualcosa per farvi la barba, pronti! Mentre se arriva la roba bisogna prima metterla assieme, poi magari arrivano, non lo so, 500.000 la mette e quattro bombolette di crema da barba, poi tocca vedere va bene, quando c'è qualcuno che si deve fare la barba tocca comprare la crema da barba. Ecco perché dico le donazioni possono essere molto utili e possono essere enormemente efficaci, ma le donazioni di beni devono essere fatte con un minimo di intelligenza. Detto questo, se ci sono altri dubbi che ci avete potete chiedere alla protezione civile, potete chiedere all'associazione volontariato, se avete qualche dubbio e volete esprimermi potete scriverlo sui commenti di questo video. Io spero di esservi stato utile, spero di non avervi tediato troppo, ho cercato di raccogliere le informazioni basate soprattutto sull'esperienza che ho fatto nei campi di protezione civile. Se ho sbagliato qualcosa, se avete delle osservazioni da fare, di nuovo fatemela nei suoi commenti qua sotto. Io sono Grizzly, vi ringrazio per essere arrivati sino in fondo a questo vlog, vi ricordo, se questo vlog vi è stato utile, di fare pollice in alto e di condividerlo con i vostri amici. Soprattutto condividetelo nel momento in cui ci dovesse essere, speriamo mai, una situazione di emergenza per la quale si vogliono raccogliere dei beni. Fate vedere questo video a chi vuole raccogliere dei beni. Io vi lascerò sul doobly-doo e anche sulla scheda un articolo del mio blog in cui ho realizzato una lista un pochino più specifica che spiega che beni raccoglierli e come raccoglierli, quindi avete un riferimento che potete eventualmente stampare, se siete a un comitato parrocchiale, se siete un'associazione che vuole effettuare questa raccolta di beni per potervi venire incontro, per potervi essere utili in questa raccolta. E detto questo, io sono Grizzly, se vi sono stato utile vi ricordo di iscrivervi al mio canale YouTube, è gratuito e assumerete subito quel buon profumo di nuovo iscritto che ci piace così tanto. Inoltre se vi iscrivete anche al mio canale Telegram lo trovate linkato sul doobly-doo, sull'annotazione e sulla scheda riuscirete anche a ricevere una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video. Bene ragazzi, io sono Grizzly, di nuovo grazie, ciao a tutti e ci vediamo al prossimo vlog.